Abbiamo terminato la scorsa lezione parlando della fprintf, infatti banalmente quest'oggi partiremo dalla fscanf. Quest'ultima è la complementare di fprintf in lettura e inoltre l'obiettivo del video di oggi è quello di chiudere l'argomento file, quindi vedere tutto ciò che è rimasto. Quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel, bentornati sul canale di progetto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e quest'oggi torneremo a parlare di file e cercheremo di chiudere l'argomento. Allora, come sempre partiamo con la dichiarazione extern fscanf di file asterisco stream const char asterisco format eccetera eccetera perché prende anche questa infiniti parametri. Cioè, dire infiniti è sbagliato, diciamo che prende un numero variabile di parametri. Se vedete questo errore perché ho cliccato per sbaglio su f10 e quindi partita la compilazione. Quindi la dichiarazione è molto simile a quella della fprintf, il parametro stream è il file da cui leggere, il parametro format è una stringa in cui definiamo il formato dei dati da leggere, ma questo è diverso dalla fprintf. I parametri variabili sono costituiti dalle variabili che verranno usate per memorizzare i dati, quindi saranno puntatori alle variabili da usare. Il valore di ritorno è un intero che ovviamente rappresenta il numero di parametri letti correttamente dal file, oppure OF se la lettura fallisce prima di leggere correttamente il primo parametro. La fscanf effettua la conversione nel senso opposto rispetto alla fprintf, quindi da una rappresentazione testuale a quella usata in memoria. Questa funzione è molto utile perché ci permette di leggere valori memorizzati in file, di testo, senza dover convertire manualmente i caratteri letti. L'unica cosa da fare è quella di specificare il formato dei dati da leggere. Il modo in cui scrivere la stringa format assomiglia molto a quello che abbiamo già visto nel caso della fprintf, però ci sono alcune differenze molto importanti di cui tenere conto. Allora, durante la lettura dal file i caratteri che non fanno parte di uno specifier vengono trattati diversamente. Quando in format viene specificato una sequenza di caratteri, allora questa deve comparire uguale anche in lettura dal file. Quando in format viene specificato un whitespace, non c'è differenza tra spazio, tab, a capo o combinazioni di essi, allora tutti i whitespace eventualmente incontrati consecutivamente in lettura dal file vengono letti e scartati. Per la fscanf il formato degli specifier è il seguente. Dunque andiamo a capo e abbiamo classico percentuale, asterisco, width, length e specifier. E come sempre i campi nelle parentesi quadre sono opzionali. Allora, l'asterisco se specificato indica la funzione di leggere un elemento ma di non memorizzarlo in uno dei parametri. Quindi se non lo voglio memorizzare ma lo voglio solo vedere, metto l'asterisco. Il campo width è costituito da un numero, maggiore di zero, che specifica il numero massimo di caratteri che la funzione deve usare per leggere un certo valore. Il campo length, in maniera simile alla fprintf, specifica la dimensione della variabile in cui andrà memorizzato il dato letto da file. Gli specifier ricordano vagamente quelli visti per la fprintf, ma sono diversi, quindi analizziamo nel dettaglio gli specificatori della fscanf. Ora invece di fare come la scorsa volta, io gli scrivo e poi ve li spiego. Ok, eccoli tutti qui. Allora, partiamo da i. Vedete, vabbè, questi qui saltano tutti gli white space. E stessa cosa per i double. I estrae eventualmente il segno e poi l'intero e di default assume che il numero sia in base 10, ma può essere anche in base 8 o in base 16. D invece si usa solo per gli interi in base 10. U interi senza segno, base 10. O interi in base 8 e x interi in base 16, che può anche avere il prefisso. Qui in sostanza abbiamo che estrae un numero con segno, con la virgola, e se non ha la parte decimale il punto è opzionale. Questo qui è per i float, mentre questo è per i double. Poi abbiamo le sequenze. Queste non saltano gli white space e questo estrae un numero di caratteri compresi tra quelli specificati tra parentesi. Poi si ferma se ne trova uno diverso. Quello sotto è l'opposto, quindi ignora i caratteri presenti nelle parentesi. S invece salta gli white space, legge quello che c'è in mezzo e poi si ferma se trova un white space. Questi sono per i caratteri, quindi C non salta i white space, estrae un singolo carattere e questo carattere può appunto essere anche un white space. NC stessa cosa, non salta i white space ed estrae N caratteri. P salta i white space, restituisce un puntatore a void ed estrae in sostanza un numero esadecimale che rappresenta un indirizzo di memoria. N invece non estrae dallo stream nessun carattere ma memorizza nel parametro passato il numero di caratteri letti dallo stream fino a quel punto. Percentuale invece è il solito escape che ci permette di scrivere percentuale, cioè di leggere percentuale dallo stream. Quindi andiamo a vedere un esempio, cancelliamo qui, cancelliamo tutto qui, questo qui in realtà non ci serve, quindi file asterisco f è uguale fopen di test 3, anzi prendiamo test 2 che c'è già qualcosa scritto, r, anche perché se apriamo in lettura poi ci dà errore. If f uguale a null come al solito return meno 1, int i1 i2 i3 hex, punto e virgola, float f double d char str di una ventina di caratteri e poi int ret è uguale a fscan f di f, virgola, percentuale d, percentuale f, percentuale 19 s, percentuale x, percentuale lf, percentuale d, percentuale d. E poi le andiamo a passare. Allora, end i1, poi end f, str, senza end, end hex, end d, end i2, end i3, punto e virgola. E poi ovviamente fclose f e return 0, punto e virgola. Quindi sono all'interno della mia folder di Visual Studio, andiamo a preparare i dati, mettiamo ad esempio 10, meno 2.2, ciao sono Daniel, qua proviamo 0x00ff a, qui mettiamo 3673245.8976, poi mettiamo meno 11,2 e 0x0f. Salviamo il file, lo chiudiamo, spostiamo il breakpoint qui, o magari un po' più sotto, e andiamo ad eseguire. Ovviamente non posso ridichiarare f in questo modo, qui mettiamo fl, perché f l'ho già usata per il file. Torniamo a eseguire. Ah ragazzi, mi sono scordato una cosa importante, qui ci va messo anche .txt, infatti mi dava errore perché f era null, ovviamente non trovava test2 perché non esisteva, perché al posto di test2 esisteva test2.txt. Andiamo a eseguire, dai. Ok, abbiamo dei numeri. Partiamo da D, vi prendo il file perché sennò non ha senso guardare solo questi. Allora D, vediamo questo numero grosso, qui c'è 59999 perché fa fatica a rappresentare il 6, ma a noi non ci interessa, e il double l'ha letto correttamente. Poi abbiamo il float, ah no niente ragazzi, questo non è il float ma è il file, ovviamente. Il float è qui sotto, che l'avevamo richiamato fl, e appunto è meno 2,2. Vedete che ha preso anche il meno. L'esa decimale, che si trova alla posizione 4, quindi questo, ecco se andate a fare due conti 0x00ffa è proprio 4090. I1, che è il primo che abbiamo preso, è 10. I2 è meno 11, qui ho sbagliato io, non ci va la virgola se vogliamo un numero, anzi essendo intero non ha neanche senso metterci la virgola, ma secondo me mi sono sbagliato scrivere. Comunque vedete che, anche per gli interi, prende i numeri negativi. I3 è stato un test interessante perché gli ho scritto 0x0f e ha preso meno questo numero qui. E RET è 6 perché abbiamo letto, e STR è uguale a ciao perché l'ho cambiato, e l'ha letto correttamente. Quindi la fprintf e la fscanf sono le funzioni per lettura e scrittura da file. Nella libreria stdio però esistono anche altre due varianti di queste due funzioni, quindi la printf e la scanf. Queste due si comportano esattamente come la fprintf e la fscanf, l'unica differenza è che non hanno un parametro di tipo file per indicare su quale file effettuare l'operazione. Queste si utilizzano direttamente su stdout e stdin rispettivamente, quindi servono solo a scrivere meno caratteri. Esistono anche due utilissime versioni di queste funzioni per leggere e scrivere su stringhe, che sono la sprintf e la sscanf. Il funzionamento è analogo a quanto già visto, ma il primo parametro è un puntatore a char, ovvero una stringa C da cui leggere o scrivere. L'utilizzo però di un file dotato di posizione corrente e di una stringa in cui non c'è una posizione corrente rende l'utilizzo un po' diverso e serve un po' di pratica per utilizzarle. In ogni caso è sempre importante fare riferimento a una reference completa, in questo caso la reference del C, con tutti i dettagli del loro funzionamento. Per ora abbiamo visto solamente le funzioni per operare su file di testo, vediamo anche quelle per operare su file binari. Per i file binari esistono principalmente due funzioni, una per leggere e una per scrivere, chiamate rispettivamente F-Reed e F-Write. Queste sono poi utili anche per scambiare dati con altri dispositivi, mi raccomando. Le dichiarazioni di queste due funzioni sono praticamente identiche e anche il loro principio di funzionamento è lo stesso. Ora io qui vi copio e incollo la F-Read e la F-Write, anzi non serve il commento perché facciamo delle dichiarazioni, quindi mettiamo extern e extern e qui vediamo alcuni parametri. Allora buffer è un puntatore allo spazio di memoria usato per contenere i dati che verranno letti o scritti. Size indica la dimensione di un singolo elemento contenuto nel buffer, count il numero di elementi di dimensione size da leggere o da scrivere in buffer e stream è il file da cui leggere o scrivere. Quindi concentriamoci in particolare adesso sulla F-Read. La F-Read prende come parametro un puntatore al primo elemento di un'area di memoria che verrà usata per contenere i dati letti. Lo spazio necessario deve già essere stato allocato, quindi se ad esempio vogliamo leggere da file 5 double dovremo allocare spazio per 5 per size of double e dunque 5 size of double saranno anche rispettivamente il terzo e il secondo parametro della F-Read che ci chiede la dimensione di un elemento e il numero di elementi da leggere. Come quarto e ultimo parametro passeremo il file da cui bisogna leggere i dati. Il valore di ritorno della F-Read è un size T che contiene il numero di elementi letti correttamente dal file. Se questo valore è diverso dal parametro count allora si è verificato un errore oppure si è raggiunto la fine del file. Bisogna ovviamente prestare attenzione anche alla dimensione di memoria allocata per il buffer. Se dovessimo leggere per sbaglio più variabili di quelle che possono effettivamente essere contenute in buffer allora si genererebbe un undefined behavior. Attenzione anche al fatto che la F-Read non distingue tra il raggiungimento della fine del file e il verificarsi di un errore. Quando una lettura ritorna un valore diverso dal numero di elementi che si volevano leggere bisogna controllare lo stato del file attraverso due funzioni F-OF e F-Error. F-E-O-F ritorna un valore diverso da zero se l'ultima operazione di lettura è fallita. Questo perché si è tentato di leggere oltre la fine del file. Zero altrimenti. F-Error ritorna un valore diverso da zero se l'ultima operazione di lettura o di scrittura è fallita per altri tipi di errore. E zero altrimenti. Alcuni esempi di errore sono la scrittura su file protetti, il supporto fisico non esiste più quindi hai estratto una chiavetta usb mentre stava leggendo eccetera eccetera. Allora per gestire in modalità visuale i vostri file in binario vi consiglio di scaricare questo software. Ok in teoria qui c'è scritto Windows 10 proviamo a scaricare questo. Vediamo se c'è la lingua italiana. Ottimo vedete anche che pesa tipo 3 megabyte. Ok io avendo un computer a 64 bit ho aperto il 64. Allora andiamo a creare un nuovo file. Mettiamo ad esempio zero. Io sto scrivendo un po' a caso perché non è semplice andare. Vedete che chiede ogni volta. Vabbè giustamente non chiedere nuovamente. Ok a questo punto salviamo il file. Ci chiede il percorso. Ovviamente prendo questo percorso. Prova punto bin salva. Quindi cancelliamo l'extern. Scriviamo ad esempio int valori di 3. 3 dentro le parentesi quadre. F uguale fopen prova punto bin e specifichiamo rb come al solito return meno 1 senal. Poi size di letty è uguale f read di valori che è il nostro buffer. Size of int 3 f. if letty diverso da 3. If fof di f. Allora mettiamo f close e qui diamo un codice di errore diverso return meno 2. If ferror f. Chiudiamo il file e qui return meno 3. Quindi andiamo ad eseguire. Non sembrano essersi verificati errori. Se vogliamo verificare passo passo come si è comportato il nostro programma clicchiamo su f10 e continuiamo con f10. Vedete che apre il file. Non è null. Esegue la f read. Controlla se i caratteri letti sono 3. In questo caso sono 3 quindi non entra dentro quest'if. E dunque questi in teoria sarebbero i valori. Quindi procediamo con la f write perché è l'analogo ovviamente in scrittura della f read. Esattamente come la f read ha 4 parametri. Buffer size count stream. Buffer puntatore alla zona di memoria da cui leggere i dati. Size è la dimensione di un parametro che indica la dimensione dell'elemento da scrivere. Count è un parametro che indica quanti elementi scrivere e stream è il file su cui scrivere. Esattamente come per la f read il valore di ritorno indica il numero di elementi che sono stati effettivamente scritti con successo sul file. Se il valore è diverso da count allora significa che si è verificato un errore. La f write scrive sui file binari quindi scrive dati binari. Quindi tutte le considerazioni fatte sui file di testo e gli a capo non valgono in questo caso. Allora proviamo a modificare ad esempio valori e mettiamo 0x 1 1 2 2 3 3 4 4 0x c a c b c d c e 0x 0 1 0 2 0 3 0 4. Specifichiamo size t count è uguale a 3 perché i valori sono 3. Scriviamo su test.bin in write binary. Size t ret è uguale a f read di valori. Poi size of int vogliamo scrivere degli interi. Count e scriviamo su f. Qui se ret è diverso da count return di meno 2 punto e virgola. Una volta letto potremmo chiudere il file. Cioè una volta scritto perché qui dobbiamo ancora cambiare f write. Andiamo ad eseguire. Il 3 è determinato con codice 0 quindi dovrebbe aver funzionato. Se vado nella cartella dovrei trovare test.bin. Ok quindi se io test.bin vediamo se funziona così. Ok ok vedete 4 4 3 3 2 2 1 1. Questo dipende anche dalla macchina se è little endian o big endian. Comunque anche qui c e c d c b c a e qui 0 4 0 2 0 0 3 0 2 0 1. Comunque sì sono stati scritti in little endian. Ora vedremo una cosa veramente molto interessante ovvero come ci si fa a spostare all'interno di un file. Nella libreria stdio.h sono presenti tre funzioni che vengono utilizzate per questi scopi. Sono la rewind, la ftel e la fsic. La più semplice è la rewind perché questa sposta il cursore del file passato nel parametro stream all'inizio del file. Per quanto riguarda la ftel questa ci restituisce la posizione del cursore all'interno del file. L'unico parametro da passare è lo stream quindi il file dal quale vogliamo conoscere la posizione. Il valore di ritorno è un long quindi in caso di file aperti in modalità binaria corrisponde anche il numero di byte a partire dall'inizio del file. In caso di file aperti in modalità testuale è un valore che ha senso solamente per la funzione fsic. Di per sé la funzione ftel non è sempre utile. Lo diventa quando viene combinata con la fsic. La funzione fsic è quella che ci permette di spostare veramente in modo flessibile il cursore all'interno del file. Prende in input il file, un long offset e int origin. Offset indica di quanto vogliamo spostare il cursore a partire da origin e origin indica il punto di partenza. La fsic si comporta diversamente a seconda che il file sia stato aperto in modalità binaria o testuale. Quando il file è aperto in modalità binaria lo spostamento è di esattamente offset byte misurati a partire da origin. Quando il file è aperto in modalità testuale gli unici valori che si possono usare come offset sono 0 e un valore precedentemente ritornato da una chiamata a ftel sullo stesso file. Per il parametro origin si possono usare tre macro definite in stdio. Ora al posto di scrivere noi qui potremmo cancellare tutto questo e scrivere fsic sempre di f a partire da 0 fino a sic end e questo mi sposto alla fine del file. Oppure fsic di f virgola 0 virgola sic set e con questo mi sposto indietro di 4 byte rispetto alla posizione corrente. Oppure fsic di f virgola 16 virgola sic set e con questo mi sposto in avanti di 16 byte rispetto all'inizio del file. Sic set indica l'inizio del file, sic cur indica la posizione corrente del cursore e sic end indica la fine del file. Al posto di sic set possiamo anche mettere 0. Quindi come esempio prendiamo una foto. Io sono andato a prendere il logo di python.png, quello che di solito uso anche per le copertine dei video, e proviamo a determinarne la dimensione. Vedete che qui la dimensione è circa 114 kilobyte. Chiamiamolo python.png per avere meno problemi. Ok. Quindi come facciamo a creare un programma che determina la sua dimensione? Allora andiamo ad aprire il file che si chiama python.png. Ovviamente lettura binaria. Chiamiamolo img, così iniziamo ad avere già un po' più di familiarità. Poi scriviamo fseq di img virgola 0 virgola sic end, long size è uguale a ftel di img, rewind img, printf, la dimensione di percentuale s è due punti percentuale ld byte, qui virgola filename virgola size. Ora per correttezza andiamo a scrivere char filename è uguale a, copiamo questo, lo incolliamo qui, tagliamo questo e lo incolliamo qua, così vedete che è più comodo. E qui è il posto di f img. Proviamo ad eseguire con un breakpoint qui, quindi vedete che più o meno la dimensione l'ha presa corretta. Infatti se vado in proprietà, ecco infatti vedete che è proprio identica, 116883 byte. Ora esistono altre due funzioni che svolgono lo stesso compito di ftel e fseq, ma superano il problema di usare un long per rappresentare la posizione nello stream. Queste due funzioni sono fgetpause, alla quale va passato stream e la posizione, e fsetpause, a cui si passa sempre stream e posizione. Queste usano un tipo apposta per rappresentare qualsiasi posizione all'interno di un file, ed è il tipo fpos t. Il valore di ritorno di queste funzioni serve solo a indicare il verificarsi di un errore, in caso di successo ritornano 0, altrimenti 1, e ritornano un int. Quindi ragazzi la puntata di oggi termina qui, con questo abbiamo anche terminato l'argomento file, io vi chiedo di lasciare un like se avete trovato utile questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le prossime puntate, scriveteci qui sotto nei commenti se qualcosa non vi è chiaro, e seguiteci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo nella prossima puntata, ciao!